Siamo allo stand Wiko del Mobile World Congress 2015 e questa è una delle novità presentate in questo Mobile World Congress, l'Highway Star, un telefono 5 pollici di diagonale con schermo AMOLED protetto da Gorilla Glass 3 e il posteriore in questa finitura metallica. Fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera anteriore da 5 con un flash integrato, quindi selfie flash, un'aggiunta molto interessante per un certo tipo di pubblico. È un dispositivo dual sim, vedete ci sono due slot per le sim, tasto di accensione spegnimento, bilanciere audio. È presente lo speaker sul basso, nella parte bassa del dispositivo e il jack audio nella parte alta. Il dispositivo monta un processore Mediatek Octa-Core da 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile tramite microSD. Abbiamo detto un po' tutto di questo apparecchio che monta ancora Android 4.4, sarà disponibile a partire d'aprile in Italia e speriamo di averlo quanto prima anche a disposizione per una video recensione completa su telefonino.net.